De Santis, sono usciti i dati riguardanti la balneazione nella nostra regione, dati piuttosto allarmanti? I nodi vengono al pettine. Noi sono anni che denunciavamo una situazione fuori controllo e avevamo detto anche qualche anno fa, da qualche anno, che alcuni tratti che erano e sono molto inquinati dopo cinque anni di classificazione della classe peggiore, scarsa, sarebbero stati chiusi alla balneazione. Molti hanno fatto finta di nulla, alcuni hanno guardato dall'altra parte, il risultato è che quest'anno otto tratti costieri saranno chiusi permanentemente per tutto il 2016 alla balneazione. Quali sono i tratti di spiaggia chiusi? Ce n'è uno a Roseto, quattro a Ortona, due a San Vitochietino e uno a Torino di Sangro. Chi vuole informarsi può andare sul sito della regione mettendo su Google Balneazione Regione Abruzzo oppure andare sul portale Acque del Ministero della Salute in cui poi vengono aggiornati i dati costantemente. Poi ce ne sono altri dieci di tratti che invece partiranno chiusi durante la stagione, cioè dal primo maggio, e potranno essere riaperti solo se ci sono due analisi positive più l'eliminazione delle cause della contaminazione. Quindi abbiamo una situazione in cui il 15% dei tratti costieri abruzzesi sostanzialmente partirà col divieto di balneazione e questo è un dato gravissimo per l'economia abruzzese e per il nostro ambiente.